Da anni, Agenzia Formativa si occupa della formazione nel mondo dell'insegnamento. Grazie alla collaborazione di partner internazionali, puoi iscriverti al nostro corso di specializzazione al sostegno. È riconosciuto in Italia. Affrettati, i posti sono limitati. Dottoressa Salomone, in classe oggi per parlare di violenza contro le donne ad una classe interamente al femminile. Che significa parlare a delle ragazze che in questo momento si approcciano all'amore, ai primi loro rapporti? Magari spesso sappiamo che proprio anche a quest'età ci possono essere quelli malati, quelli deviati, quelli che poi portano ai fatti di cronaca che purtroppo conosciamo. Secondo me è la scuola proprio il luogo deputato a questo tipo di confronto, perché il problema della violenza alle donne è un problema sistemico, un problema strutturale di una società. Quindi se non cominciamo a cambiare noi donne, se non cominciamo a cambiare i bambini, parlando con loro, educandoli alle emozioni, alle relazioni, è difficile che questo fenomeno, se vogliamo definirlo così, possa finire. Secondo lei c'è una certa retorica in questa giornata? O secondo lei va continuata, secondo questo indirizzo, la sensibilizzazione, il confronto, il dialogo, parlare di un tema che fino a qualche anno fa era un tabù, rimaneva tra le mure domestiche e forse lo rimane ancora? Infatti secondo me il problema era veramente questo, era considerato un problema privato, intimo, di relazione marito-moglio, uomo-donna. Invece è un problema, come dicevo prima, proprio sociale. La celebrazione, sì, se ha lo scopo di ricordare, di sensibilizzare, comunque di stimolare il confronto, ben vengano. Se devono essere degli incontri autoreferenziali, cattedratici e didascalici, è evidente che, insomma, non ne ha più bisogno nessuno. Il confronto con i ragazzi, secondo me, è il momento più importante. Se le scuole sono stimolate da queste giornate, allora sì, allora io sono d'accordissimo e partecipo molto volentieri. Alle altre circostanze, sì, magari ci sono dei momenti in cui bisogna parlarne, magari si fa, però non ha lo stesso valore pedagogico ed educativo come in questo momento preciso. Sede, oggi un vostro evento all'interno della scuola che coinvolge una classe interamente al femminile, mi pare che non è una scelta casuale. No, in realtà coinvolge principalmente l'indirizzo delle scienze umane. Con questa iniziativa, proprio questo indirizzo, ha voluto non far passare sotto silenzio una giornata molto significativa, importante, proprio per sottolineare l'importanza di riflettere sul fenomeno della violenza sulle donne e di soprattutto portare un contributo attraverso lo studio, ma soprattutto attraverso un accoglimento sia mentale che dell'animo, della problematica e del cammino che ancora dobbiamo percorrere, perché c'è ancora tanta strada da fare e a scuola si può insieme riflettere e si può individuare la linea di un cammino verso il futuro che possa essere più luminoso dello stato attuale.